Raccomandate, telefonate, fax, posta elettronica certificata. Ha usato tutti i mezzi a disposizione il sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, per farsi ascoltare dall'assessore regionale alla sanità e dal presidente Vendola. Certo non a nome personale, ma di tutto il consiglio comunale che aveva deciso in tal senso, preoccupato per le sorti dell'ospedale del loro comune. Sono passati due mesi e dalla regione neanche un cortese cenno di ricezione della richiesta. Che fine farà l'ospedale di Castellaneta? La preoccupazione che si avvia ad un ridimensionamento drastico viene da una serie di segnali che vanno dallo spostamento di alcune attrezzature in altri nosocomi a reparti che continuano a restare fermi da anni, per esempio l'UTC, alla riduzione di personale postiletto. A questo punto il sindaco del comune ionico ha chiesto aiuto con i sindaci del Baticino di Utenza, Massafra e Palagianello, ai consiglieri regionali Tarantini e dall'onorevole Gianfranco Chiarelli. Spero che riescano loro, ha detto Gugliotti, ad avere un minimo di risposta. Io sono incredulo e indignato. Ascoltiamolo. Mi sono riso conto che tutti si riempiono la bocca di collaborazione istituzionale, ma di dialogare con i comuni, che poi sono quelli che stanno sul territorio, quelli che incontrano i cittadini senza nulla togliere agli altri livelli istituzionali, tutti si riempiono la bocca ma nessuno se ne frega niente. Perché non è concepibile, anche per un fatto di garbo istituzionale, non è concepibile che non si degni, non si degnino neanche di una risposta dopo decine e decine di solleciti.